E che si è fatto ragazzi secondo voi? Che cosa si sarà fatto? Si è pareggiato, si è pareggiato forse ragazzi, 16 pareggi, comunque a parte gli scherzi oggi ho visto qualche piccolo progresso, qualche piccolo progresso io ragazzi l'ho visto, l'ho visto oggi e poi voi mi direte Eh ma l'hai visto perché adesso c'è Montella e prima criticavi Pioli di... no ragazzi oggi ho visto qualche piccolo progresso per la voglia di vincere che comunque la Fiorentina ha fatto un po' vedere oggi per la voglia di combattere per un'idea di gioco che si è cominciata a intravedere che non avevamo visto per tutta ragazzi la stagione perché mi dispiace ragazzi Ma non avevamo mai visto un'idea di gioco nella Fiorentina, cioè praticamente di solito la Fiorentina si affidava soltanto a qualche folata affidata a chiese Muriel, stavolta invece ragazzi si è vista un po' di idee di gioco Ancora ragazzi io non ho capito comunque Veretù che gli sia preso ragazzi perché Veretù secondo me c'ha già la testolina a Napoli e se c'ha la testolina a Napoli ragazzi gli farei finire la stagione in panchina Perché se c'ha la testa a Napoli come il suo amico Milenkovic secondo me c'è una tutta e dura testa da qualche altra parte Gerson ragazzi non è bastato Montella a rigenerarlo Poi ragazzi è chiaro eh comunque che alla fine Montella che cosa poteva fare? Montella che cosa poteva fare concretamente? Cioè non è che è arrivata dopo tre giorni c'è la bacchetta magica e magicamente la Fiorentina ricomincia a vincere e ricomincia a dar calcio a spettacolo Ragazzi è chiaro che comunque non possa far subito una differenza però già qualcosa abbiamo cominciato a intravedere Per esempio Dabo preferito a Benassi quella è una scelta importante perché alla fine Dabo non ha fatto una brutta partita Non mi è disgustato affatto come preferire invece anche Ceccherini a Vitorugo Anche Ceccherini ragazzi assolutamente ha fatto una buona partita forse una dei migliori partita attenta Quella da parte di Ceccherini Davanti ragazzi davanti ragazzi neanche Montella è riuscito a rigenerare Simeone ragazzi Simeone ragazzi che per fortuna l'ha levato nel secondo tempo ma Simeone inesistente Muriel prova a creare qualche pericolo alla fine arriva al palo comunque sempre pericoloso eh Luis Muriel sempre un giocatore che può creare e seminare panico da un momento all'altro Quindi è un giocatore sempre che deve stare in campo Muriel che può assolutamente creare qualche pericolo Come Federico Chiesa del resto idem E poi ragazzi Gerson nel mezzo al campo appunto bell'edetto Pensando invece poi praticamente la FON alla fine qualche non ha compiuto interventi di rilievo insomma Comunque una Fiorentina che aveva voglia di vincere dopo una settimana travagliata Già non perdere è un piccolo risultato insomma Fatto sta prendiamoci il nostro decimo posto ragazzi Fatto sta ragazzi Ragazzi alla fine Che cosa dobbiamo fare? Prendiamoci questa posizione Andiamo avanti E pensiamo alla Coppa Italia Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate Lasciate una banca Mi piace al video Condividete questo video Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Forza Viola Dici ragazzi Al prossimo video A presto